6 dopo il video, sinistra 3 attraverso cancello, pozza d'acqua. 150, percorrere, sinistra 6 su Cunetta, 100 dopo Piazzola, crinale sinistra 4, in destra 6 al centro su crinale, in destra 6 130. 100, cautela, crinale, poi curva stretta a destra. Crinale destra 6, poi curva sinistra 3, si restringe, diventa 2 dopo Piazzola. 1. 1. Sì, sì, sì. su crinale destra 6, sinistra 6, destra 6, su crinale 110, suo spossamento attenzione destra 4, lunga notariali, si restringe, diventa 3, su crinale subito, tornante sinistra secca, supero, curva, numero sinistra, in destra 6, sinistra 6, in destra 3, lunga, poi curva, sinistra 3, semilunga, crinale, possibile salto senistra 6, in attorno, fantastico, scena, 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 scena In sinistra 5 lunga 100. In sinistra 2 lunga si allarga 100. In sinistra 6 semi lunga 60. In sinistra su crinale attenzione tieni la sinistra su crinale discesa poi destra 4 lunga poi sinistra 1 lunga. In sinistra 4 continua su crinale. In sinistra 6 60 dopo il bimio. In sinistra 6. In sinistra 40. In sinistra 3 lunga non taglia. In sinistra 6 60 subito. In sinistra 6 60 subito. In sinistra 5 lunga. In sinistra 5 lunga. In sinistra 6 lunga su crinale. In destra 6, semi lunga In destra 4, 40, cancello Destra 6, 40 Sinistra 6 In destra 3, lunga 40 Destra 5, continua, per 80, su crinale, si restringe, diventa 3 In sinistra 5 Sinistra 6, 40, cancello Destra 3, lunga, dopo il pivio, verso sinistra 6, crinale, salto Sinistra 4, lunga, interno In attenzione, tieni la destra, su salto, sinistra 6 In destra 3, sinistra 6 Sinistra 4, lunga, interno, centro Sinistra 4, lunga, interno, interno Sinistra 4, lunga, interno, interno Sinistra 6, 40, cancello Interno, 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 interno Grazie a tutti.